Ciao, oggi ti parliamo della razza ovaiola per eccellenza. Ti parliamo della razza Livorno, detta anche Livornese. La razza Livorno è una razza italiana, come avrete ben capito, discende da un pollo di campagna dell'omonima città toscana. Si è sviluppata molto velocemente in tutto il mondo per la sua grande capacità di deposizione. Per la sua straordinaria capacità di deposizione questa razza si è praticamente sviluppata in tutto il mondo e in tutto il mondo possiamo trovare vari ceppi di questa razza. Esistono infatti il ceppo tedesco inglese e il ceppo americano. Ogni derivazione di razza ha le sue diverse caratteristiche morfologiche. La razza italiana è contraddistinta da un gallo con cresta tenuta alta, mentre la femmina solitamente ha una razza curva e piegata. La cosa che accomuna tutti i colori delle Livornesi è il colore degli orecchioni che sono bianchi, dei tarsi che sono gialli, è il colore degli occhi. Oggi a farci compagnia c'è anche uno splendido maschio. Di questa razza ne esistono innumerevoli colori. Questo che ho in braccio oggi è un collo dorato. Ne esistono di bianchi, di neri, di perniciati, di blu e vari altri colori che si possono trovare tranquillamente in giro per il mondo. Le particolarità principali di questa razza abbiamo detto che è un'ottima ovaiola, quindi questo significa che può produrre fino a 200 uova all'anno e può produrre indifferentemente anche d'inverno. Contro questa razza non è assolutissimamente una razza covaticcia, quindi chi l'acquistasse deve sapere che sarà molto difficile ottenere una chioccia. Nel caso in cui la ottenessero sarà molto probabile potrebbe essere una chioccia non particolarmente affettiva con i propri pulcini. Quindi se avete intenzione di avere degli animali per la riproduzione la Livornese non è la più indicata. Quindi questa razza non è una razza di gallina fabile, docile ed è molto sfuggevole, quindi è molto difficile che possiate stabilire un rapporto confidenziale come potreste stabilire con delle razze magari di tipo nano o con delle altre razze un po' più docili. Quindi se voleste allevare le galline di razza Livorno ricordatevi che sono delle ottime depositrici, fanno le uova completamente bianco, ma non sono delle ottime covatrici e sono degli animali abbastanza schivi, anche se sarà facile riuscire ad addomesticarli. Vi rimandiamo al prossimo video, alla prossima razza. Intanto se avete bisogno di qualsiasi altra informazione potete cliccare ai link che trovate sotto a questo video, i nostri link social e il nostro link al sito web dove troverete un sacco di altri video interessanti, informazioni nel nostro blog e nel caso in cui abbiate bisogno di chiedere informazioni particolari potete contattarci attraverso il sito. Intanto noi vi salutiamo e vi auguriamo buon allevamento insieme ai vostri amici animali.